Wi-Fi libero nelle piazze del comune di Poggio a Cagliano grazie a una serie di hotspot appena inaugurati, dislocati in via Garivaldi, piazza della Riconciliazione, piazza 20 Settembre e alle Scuderie Medice. Il Wi-Fi è l'ulteriore tassello di un'operazione che ha già portato la fibra ottica nelle scuole di Poggio a Cagliano. È un servizio in più, lo avevamo promesso, era nel nostro programma elettorale, quindi si corona un altro tassello del nostro programma, quello di mettere a disposizione le piazze della nostra città, le vie principali, anche quelle commerciali, per consentire ai cittadini e ai turisti che vengono a Poggio a Cagliano di poter utilizzare in modo libero la Wi-Fi, quindi collegamento a Internet. Un investimento complessivo di 57 mila euro, fortemente voluto dal comune e realizzato da Estracom, la società di telecomunicazione di Estracom. Su Poggio noi abbiamo fatto una consultazione ministeriale, abbiamo risposto dove ci siamo impegnati da qui al 2020 di fare un'infrastruttura in fibra, quindi dotare tutta la città di collegamenti a ogni singola unità immobiliare in fibra ottica, per portare quella che è la banda oltralarga, quindi connessione fino a un gigabit all'utenza. Partiremo nel 2017 alla fine nella piccola area industriale che c'è qui a Poggio a Cagliano e poi nel proseguo degli anni si espanderà anche a quelle che sono le zone residenziali.